Milano 2046 è un laboratorio attuato dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Milano che nasce intorno a un'idea, un'idea abbastanza semplice ma nuova ed è quella di riunire sotto un unico cappello tre temi. Il primo tema è il futuro, il secondo è il benessere dei cittadini e il terzo è un approccio scientifico ai temi del futuro e del benessere. Perché il futuro? Perché sentiamo tutti l'inadeguatezza di vivere continuamente orientati al presente di vivere solo di contingenze, di occuparci di cosa e di come ma di non avere mai il tempo per pensare ai perché. Il benessere invece deriva da tutti i più importanti studi internazionali di questi anni che partendo dal BES-ISTAT al quale noi ci riferiamo e passando per OXE ma soprattutto per i 17 obiettivi dell'ONU cerca in qualche maniera di far confluire intorno allo star bene delle persone i vari studi, i protocolli e gli sforzi dei vari paesi. E infine l'approccio scientifico. L'approccio scientifico significa che noi lanceremo 12 indagini con una metodologia che si chiama DELFI ma non è una scienza che significa fare appello agli esperti anzi è una scienza democratica che coinvolgerà centinaia sia di esperti che di portatori di interesse che di membri della comunità per darci due cose. Gli obiettivi desiderabili della città del futuro e gli shock, ossia evidenziare quali possono essere le minacce dalle quali guardarsi. Milano 2046 è un progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale che ha l'obiettivo di farci alzare lo sguardo perché siamo consapevoli, convinti che proprio quando le cose vanno bene quando una città come Milano attraverso un momento positivo è il momento di progettare e pensare al proprio futuro con una consapevolezza le molte cose buone di cui tutti parliamo e che viviamo nella nostra città spesso sono frutto di scelte fatte molti anni fa al tempo stesso i problemi che la nostra città affronta spesso sono non l'effetto di scelte sbagliate anche ma a volte l'effetto di scelte non assunte quando era il momento di prenderle allora noi ci siamo andati in un orizzonte lungo il 2046 e pensiamo che una città che la politica e le istituzioni debbano non solo occuparsi di affrontare al meglio il contingente, le scelte quotidiane come è doveroso fare per chi amministra ma anche farlo dentro una cornice di sguardo verso il futuro allora abbiamo pensato di coinvolgere persone molto autorevoli in un progetto di ampio respiro di alto profilo per individuare gli obiettivi che la città la nostra città deve porsi in una logica di lungo periodo sapendo che non è una fuga dal presente perché invece lavorare sul futuro comporta il fatto di fare delle scelte oggi quindi noi oggi dobbiamo fare delle scelte ma dentro uno sguardo ampio che noi facciamo pensando al futuro della nostra città e delle prossime generazioni quindi con grande orgoglio andiamo avanti con questo progetto grazie a tutti